Sono d'accordo molto con la senatrice, in quanto in Italia si cerca sempre la strada più facile, quindi l'autocertificazione. Abbiamo avuto in un altro settore qualche mese fa lo scandalo di una società alimentare che si era certificata B Corp, ma la B Corp non è altro che sono alto e bello e biondo, quello mi dice sì, va bene, stop, finisce. Non c'è un ente terzo che va a controllare, fa degli audit in campo, perché giustamente o non giustamente lo si ritiene costoso, siamo sofferenti ad avere la presenza di un consulente o di un auditor che ci viene a dire forse cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo effettivamente dire e scrivere sui nostri fogli che magari è diverso da quello che pensiamo, ma non è così. Perché noi aiutiamo le aziende a mettere su carta quello che effettivamente è, facendo degli aggiustamenti in base a quello che richiede effettivamente il mercato. e nell'ultimo periodo sostenibilità, sposando un po' quello che è il pensiero anche dell'amico comune di Nicola Paparusco, il mio e di Nicola Paparusco e Carlo D'Amerio, sostenibilità è una parola di cui ci stiamo tutti un po' beando, un po' fasciando, un po' riempiendo la bocca, ma effettivamente dovremmo andare a studiare effettivamente cosa c'è tra sostenibilità e etica, che sono due parole molto, molto, molto importanti. Sostenibilità che è sull'ambientale, sul sociale, quindi fare la fatica, fare comunque un investimento per poter entrare a pieno merito su quello che è il circuito di sostenibilità, su quello che sono i progetti di economia circolare, su quello che può essere tutto un progetto di beneficio comune, è un sacrificio ma bisogna farlo, soprattutto per i grandi band, ma come diceva prima il professor Pastore, soprattutto bisognerebbe andare a vedere di cosa hanno bisogno i fornitori, gli artigiani, che magari fanno più fatica rispetto a un grande brand, a pagare, a investire in società di consulenza o in tutto questo circuito. Grazie mille, lei aveva portato anche una presentazione, non so se ci... Mi dicono, però credo che sia un po' contraddittore questa cosa. Ok, allora facciamo finta di niente. Credo che ci sia stato un breach in questa cosa. Benissimo. Allora passiamo a Rosemary. Abbiamo tutto, mi dicono che abbiamo tutto. Sì? Sì. Allora mi dica lei. Eccola. Io ho il... Guardi, le passo il clicker per cambiare le slide. Back, 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 next. Posso... Ok. Sì. Sì, hanno... Noi siamo una società di consulenza, come dicevo prima, io prima non ho detto per tirarmela, perché sono beato tra le donne. Due sono qui, ma la maggior parte del mio team è formato da donne. Siamo certificati parità di genere. Non l'abbiamo fatto per avere il contributo dell'1% dell'Inps. E abbiamo sposato questa certificazione perché ci crediamo e perché per primo, e se voglio proporla soprattutto anche ai miei clienti o a chi mi è intorno, sapere cosa dobbiamo effettivamente fare. Anche qui sta nascendo quello che si chiama il greenwashing. Aziende che cercano di ottenere un certificato in maniera fasulla, veloce. Alla fine dell'anno, negli ultimi due giorni dell'anno, noi abbiamo avuto 20 chiamate da aziende che volevano certificarsi dall'oggi a domani perché il primo contributo che era, si ricorderà sicuramente la senatrice, il primo contributo che scadeva il 31 dicembre. Quindi volevano il certificato domani, ma non si può fare. Perché comunque anche lì è un percorso, è un percorso di cambiamento anche su quella che è la parte di sicurezza, di quello che è le moleste sessuali, delle educazioni che dobbiamo avere sia per l'uomo che per la donna. Quindi tutto un insieme di cose. E poi aiutiamo le aziende, soprattutto nel settore dei prodotti, a scegliere qual è la migliore certificazione per il loro prodotto o altro.